Salve ragazzi, noi siamo un po' andati avanti con la saga, questa parte qui con lei, perché l'hacker diciamo che salta molte parti rispetto alla versione standard della campagna e quindi siamo in ospedale, possiamo uscire, no, perché giustamente dobbiamo aspettare, ok, qua siamo in ospedale, siamo in ospedale, c'è chi scende e chi sale, basta, vediamo un po', ah, è inutile dire che ho livellato i Digimon, perché ragazzi ho saltato un po' la parte dell'allenamento e è inutile dirlo che ho fatto un po' di, Maronna non riesco a usare, uno, ecco qua, Maronna Sì, papà? No, non sto in cucina, cioè c'è lo studio di mia mamma, la carta igienica ho messo l'appletto Ciao Sì, mio padre come pensa che aveva rubato la carta igienica Allora Allora Ah sì, giusto Ecco qua Greymon, eccolo qui Abbiamo anche la versione blu Greymon blu che sarebbe poi la versione che poi Se facciamo Metal Greymon diventerà tutto blu senza strisce E poi abbiamo Goblimon Che è, nella versione originale è Goburimon Eccolo qua Sì, abbiamo loro Sì, abbiamo un bel po' di Digimon E quindi abbiamo livellato un po' Sì, uno direbbe Ma scusa, questi hanno Sono più alto il livello di Goblo Che il livello intermedio Rocchie Rispetto a loro che sono di livello campione Grazie, sono di livello 1 Lui è di livello 20 Grazie, ho capito Come Memoria, se avete notato Se avete notato Siamo giusto al party memory 20 su 20 Perché abbiamo il livello massimo Quindi non possiamo avere due Digimon di livello campione Quindi, giustamente, setting un attimo Perché vogliamo organizzazione Deve metterli al centro E lui va bene Qui, perfetto Possiamo fare un check di Digimon che abbiamo trovato Vedete, quante ne abbiamo Abbiamo, sì, abbiamo anche Gabumon Black Abbiamo Lui ancora dobbiamo sbloccarlo Vedete, perché l'abbiamo trovato nella versione Dell'hacker, se vi ricordate Anche lui Dobbiamo sbloccarlo No, scusate Li abbiamo incontrati come avversari Giusto? Poi abbiamo, beh, anche lui Vabbè, Goblimon Che poi è bello che tu Quando li selezioni Puoi vedere le Digi-evoluzioni Ecco Belli, eh? Anche lui Perché abbiamo anche lui Vedete? Ecco, quelli che abbiamo sbloccato Praticamente ci mostrano Quelli che abbiamo sbloccato Eh, sì, raga Eh, sì Lui, per esempio, abbiamo sbloccato Ma non ce l'abbiamo qui come Digimon Per esempio Abbiamo sbloccato anche lei Abbiamo Greyman Che giustamente manco tre versioni Di cui tre virus E uno corretto Lui sono un virus e tre data Ovviamente Lei, vabbè, è un po' un misto Gatomo Sono gli unici tre Digi di livello campione Che ho Poi abbiamo lui Di livello Rocky intermedio Vedete? E poi Training Training Cioè, proprio quelli di livello intermedio Piccoli, piccoli Per poi Training 2 Giustamente serve per allenare Per avere i Digi-e Vedete, eh, che belli Li abbiamo già sbloccati alcuni, raga Eh Bakumon, ad esempio Non ho la versione Mi serve questo Che ancora non l'ho sbloccato Lo devo sbloccare Quando sbloccherò Posso avere anche io Betamon Vabbè, abbiamo questo Che è adorabile Infatti Già abbiamo tre evoluzioni fatte Lui ha Beagumon Ovviamente E abbiamo già roba Abbiamo tanta bella roba Attenzione Gjulmon Io ho scelto mettere Greymon Blue Perché voglio arrivare a avere Black War Greymon Lo so Uno dirà Ma scusa Gjulmon non si dovrebbe Digivolvere in Growlmon Esatto E che stava proprio qui Al primo posto Solo che ho voluto Mettere Greymon Blue Perché tanto poi Lo scopo del gioco È che devi arrivare A un certo livello Però devi ritornare indietro Quindi lo devi Cioè lo devi Digivolvere Quindi lo devi Riportare indietro Del suo livello Capito come funziona Per farvi capire Per intenderci In maniera molto semplice Se prendi Un Greymon Tu lo devi Abbassare Il suo livello O a questo O a questo O a questo Così Riaumenta Il Vi faccio vedere Che cosa aumenta Vediamo Per farvi capire Ecco qua Il L'ABI Cos'è l'ABI Aumenta quello L'ABI Ma ad esempio Il Digimon In questione Arriverà Solo al livello Massimo 51 Quindi al 51 Non può più evolversi Deve Anche se è un bel Traguardo Quindi potrebbe arrivare Anche al livello Super A livello 50 Ci arriva Poi c'è il livello 70 80 Che è per il livello Mega Quindi Diciamo che siamo messi Bene Ah I Digimon Vi faccio notare Una cosa Vi farò notare Vedete A fianco 700 di vita E tutto il resto È zero Se noi Vediamo questo Di Goblimon Queste sono fusioni Lui è una fusione Infatti Tiene più 2 In generale Più 180 Di vita Attenzione Noi possiamo dare Anche un equipaggiamento Al Digimon Però per il momento Non ci serve No Vediamo un po' Se dobbiamo andare Da qualche parte Perché qui Dobbiamo gironsolare Un po' Non possiamo Entrare Da nessuna parte Vedete Sì Potrei parlare Con tutti questi personaggi Ma non mi interessa Vediamo se qua c'è problema Va bene Bene Ora dobbiamo andare Da nessuna parte Qui per il momento Non ci serve Che bel personaggio Che sia Dobbiamo andare Magari qui sopra Andiamo qua sopra Special World Che è importantissimo Questa zona è importantissima Abbiamo scatolito qualcosa No Ecco infatti Ah vi ricordate Che era Era L'abbiamo Risistemata Sta poveraccia Questa Deve aiutare A chiocco Quindi Non mi fa entrare Giustamente Va bene Ci ho provato Quindi È inutile Quindi andiamo All'obby Qui abbiamo Avuto a che fare Di incontrare Un personaggio Che avremo Molto da fare Infatti Adesso Dobbiamo andare All'Aiden Aiden Aiden No Aiden Aiden è il personaggio Di Battle.2 Ottimo Dobbiamo andare Qui Credo Perlustriamo Magari Troviamo qualcosa Di importante Vabbè Il bambino Qui No Non c'è niente Allora ho capito Dove dobbiamo andare Sì perché io devo un po' Perlustrare Perché Sto dovuto andare qua Vedete tutto questo Di perlustrare Esaminare luoghi Paesaggi È un via vai Devi capire Cosa devi fare Anche se Aveva detto Dovevo andare Però andiamo Un po' Ovunque Io faccio sempre Dei leggeri Perlustrazione Perché sempre Troverò qualcosa Per esempio Questo Vabbè Assurando Digimon è una serie Comunque sì Per ragazzi Però Rispetto ai Pokémon È molto più serio Ci sono delle belle Scene ignoranti Alcune volte Vabbio le lacrime Ti vengono Ti vengono A meno da bambino Ah ragazzi Piccola curiosità Avete visto Dove si siedono Dove si siedono I personaggi E Se fate caso È la stessa cover Della parte di sopra Del portatile Di Di Dizzi Dei protagonisti Di Appunto Di Olè Mamma mia Guarda come sono bellini Belli eh Dicevo Vabbè Gotsumon Goburi Goburi Come volete voi Girò Come figlio Rispetto agli altri Belli che camminano Dei tirannosauri Praticamente O due cornutauri No vabbè Sto scherzando Oddio Mò ho notato Il pulsante Enter Wow ma dai Non l'hanno notato Sta cosa No vediamo Se magari Dovrei Posso finalmente Andare La zona Dove ogni volta Mi bloccavano Perché io adesso Non lo so Vediamo se adesso è possibile Ma ne dubito Eh infatti Sta bene Intanto Dobbiamo Risolvere Dobbiamo Andare Ah Andiamo dall'altra parte Ho capito Andiamo dall'altra parte Dritto Per di qua E tagliata Quindi usciamo per di là Perché c'è sempre qualcosa Che devo fare Ecco Perché tanto Questo è lo stage Quindi È una cosa Di perlustrazione Mmm Che noia Non è andato come vuole Benissimo Non era come Pensavo Allora devo Perlustrare Nella Nel come si chiama Nella Ok vabbè Avete visto Le dimensioni Dei Digimon Sono già cambiati Moltissimo Rispetto alle versioni Credo che avete notato I danni Fanno leggermente male Comunque Sono perfettamente Identici alla serie animata Non c'è niente da fare Bellissimo Non c'è niente da fare Vediamo qua che dicono Grazie che sei stato il mio presente Sì Quella devo rispondere Nient'altro ai messaggi Perché È simbario Uuuuh È vero Devo sbloccare Lei È vero Dai Sconfiggio Con un colpo Considerate Che certi Digimon Come Goblimon In questo caso Ha una storia particolare In Digimon World 1 e 2 Io li ho conosciuti La Goblimon So che c'è una cosa divertente Che Goblimon Io non l'ho mai visto Nella serie animata Almeno nella prima stagione E neanche nella seconda Goblimon appare Nella terza stagione Questo mi ha iniziato A far capire Che molti Digimon In questione Tutti i Digimon creati Paresemente Sono usciti Nelle serie più avanti O più avanti O man mano Nel tempo Quindi non sono mai Stati realizzati Veramente Bensì avevo già Dei progetti Di vari tipi di Digimon Intanto facciamoli Fare un attacco speciale Gli attacchi speciali Volevi sentire Che fai Usa l'attacco Usa il nome Dell'attacco Bellissimo E Che stavo dicendo Goblimon Quindi io pensavo Che era Inizialmente Vi giuro Pensavo che Quel gioco di Digimon Era un fake Rispetto alla versione Perché io giustamente Vedevo la serie animata L'anime E giustamente Dicevo Ma questo Goblimon Non l'ho mai visto Da dove è uscito No è un fake Allora è fatto male Non è l'originale Non è un sui Digimon Cioè È qualcosa Sbagliato Intanto vi faccio vedere Una cosa simpatica Grazie Vedete Sto allenando I miei Digimon I miei Digimon Eccoli qua Li sto livellando Tranquillamente Tuiagumon Vedete Gatumon Lui di livello campione Tutti gli altri Sovlocchi Abbiamo tutti Da mangiare Tutti 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 Lo possiamo Prendere E ottenere Dei Digimon Così Oleh Digimon Ok Uno direbbe Ma già ce l'abbiamo Questi Certo che ce l'abbiamo Ma certo Che ce l'abbiamo Noi li usiamo Li chiamiamo Per sicurezza Andiamo qui Dobbiamo andare Comunque dicendo Goblimon Praticamente Succedeva Questa barzelletta Che Goblimon Era un avversario Che io vedevo Ma non capivo Effettivamente Se era un fake Una presa in giro E l'ha fatto Ok Si intanto Devo mettermi Forza a parlare Un po' Di questi Perché Poi qualcuno Mi svela qualcosa Infatti Qua è tutto chiuso Vediamo un po' Perché c'è sempre Qualcuno Che mi Svela Ah Forse ho capito Con chi devo Parlar Forse è il suo Giacomo Ok No perché Sicuramente Non da coprire Perché io Dobbiamo incontrata Un personaggio Importante No Che è importante Nella lore Quindi Dobbiamo parlare Un po' Non entrare qua Quando si può entrare Oddio Non c'era questo Beh beh La dobbiamo entrare Oh Nuova area Nuova area Qua sono veramente curioso Che i Digimon ci sono Uuuuh Belli Vedete Rosso Perché Noi siamo fuoco Quindi vi faccio Una percentuale Di danno maggiori Goblin Strike Che sarebbe Colpo del Folletto Tradotto proprio Palesemente in italiano Bellissimo Colpo del Folletto Boom Infatti usa la mazza Ma claro Palesemente Un suo attacco Bellissimo sta cosa Ehm Goblin Appare in Digimon Adventure 3 Che si chiama Digimon Trainers Praticamente Quindi Ha tutto un altro nome Ehm Ed è fantastico Ehm Da Ah Triplo Pura Benissimo Ehm Quindi Dopo averlo scoperto Ah Però questa è la piccola evoluzione Di Ogremon Invece Poi nel Digimon Nel terzo saga Hanno fatto l'idea Che non è vero Che lui si è trasformato In un altro Digimon Che sembrava Ogremon Ma in realtà Non lo era Era un altro Digimon Che comunque Era Parente Cioè Parente Era Come dire Era Simile Come Greymon E Greymon E Blue Greymon Ok Come vedere Ogremon E quell'altro Aveva un altro nome Solo che Non aveva le corna Per esempio Bello Le difenze D'attacco Fra Blue Greymon E Greymon L'animazione Però di Vittoria C'è sta C'è sta Intanto Sala di livello Quella qua Ok Sì Tanto Goblimon Lo faceva Digivolvere In Ogremon Prima cosa Che non faccio Digivolvere È Ogremon A livello super Perché Ogremon Diventa Etemon E poi Metal Etemon Per questo Infatti Non l'accetto Non mi piace La sua Digivoluzione Oh Siamo entrati Dentro la zona Più importante Dell'ospedale Ecco Come scopriamo Una realtà Allora Se andiamo avanti Ecco appunto Se andiamo avanti Ci facciamo sgamare Quindi non dobbiamo Farci sgamare La vedete Ci sono delle persone Lì E la vedremo Uno Guardate bene Oh Mo avete capito Noi siamo Praticamente Una sossia Dell'originale Noi siamo Praticamente Un corpo Dell'avatar Nostro Noi siamo Un avatar Siamo distaccati Palesemente Dal nostro corpo Che siamo In ospedale E' tristissima Sta cosa E' tristissimo E tutti Sti bambini Ragazzi Hanno il nostro Stesso problema Siamo in ospedale Noi siamo lì Inconsci Però Il nostro corpo E' qui Porca miseria Quanta ansia Oddio Comunque Queste angolazioni Ragazzi Mi fa ricordare Resident Evil Guardate Resident Evil Guardate Bellissimo Il cambio di scena La Resident Evil De Dino Crisis Oddio La tecnologia Vediamo un po' Che cosa succede Qua 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 ci sono Le rivelazioni Vediamo le rivelazioni Eh Ecco uno dei protagonisti Pi' importanti Della santa Che ci fai tu qui Perché Perché Bella domanda Non toglie Anch'io Qui è un'attività Non toglie Non toglie Ok Anche Limitato Quindi Eh beh Chi sei? No Tu sei un partner Ehm Ehm Ci provato Ehm I just Madonna Questa è deprimente Quando parla Quando parla Lei Sì Voglio fare domande Un po' più serie Qua ti spiega Tutte le cose Però E' un po' un casino Quello che sta succedendo In realtà Ecco E quella sono Lei sa qualcosa Che ovviamente Non può dire Almeno per il momento E' un po' incrippata La versione maschile Divertente Perché sono Bacchise diverse Rispetto Al personaggio femminile Perché ci giocano Molto Stanno La cosa divertente Che in qualche battuta Puoi fare Una versione Un po' Da Lesbica Se sei un personaggio Femminile Qualche battuta Un po' Te ne esce La stessa Ripetuti Un po' Sime a quello maschile Nel tipo Che fa complimenti Oh sei cute Sei adorabile Sei bella Infatti Mi ricordo Che nella versione maschile Lei non risponde Perché si arrossisce Se quando ho fatto I versioni femminile Se non erro Lei mi ha guardato Quasi terrorizzata Perché giustamente Sono una femmina E' bellissima Sta cosa Ah hello guard Arrivata Non la sopporto A quella Miss Ray Questa è una Di quei personaggi Un po' Sadomasi Mo' la vedrete Quel personaggio Cute Adorabile Provocante Ma nello stesso tempo Una bambina Mo' la vedrete Eccolo Madonna Si vede Dallo sguardo Che è un Un stronzo Velti Vedete E' proprio un personaggio Da provocatoria Proprio Fa tutta la carina Eccolo Ma invece E' perfida E' perfida E' molto provocante E' molto cattiva Perché lei sa Che lei non ci deve stare Qua Vedete Quelli Quando è disgraziata Ho una Girlfriend Cioè Una fidanzata Ovviamente Usa il computer Per andarsi Vedi Lei ha capito Che c'è qua Vedete Quante meschine Certo E' molto Disgraziata Quella Dove? C'è un computer Ricordatelo L'unica cosa Non mi piace E' texture Che non sono Pixel C'è un pixel L'altro Siamo scappati Alla grande Sloggiamo proprio Via ragazzi Via Via Siamo stati Siamo stati scappati Via Corro scappati Scappati Ah si Ok E Ok 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 Ah Oh che bello Finalmente Disblochiamo Un po Questi ci servono Eh Dai Attacchiamo Normal Mi stai prendendo In giro? Tera Sì Sì Inoltre Gli fai il corpo Da corpo Perché fai lo stesso Attacco di Grey Oh livello 21 Tanto questo Anche quello saliva A livello 27 Pure Ah ottimo Dai a me è arrivato a 100 Io qua in teoria Dovrei fare una cosa O dire a che cosa Dovrei praticamente Arrivare Almeno a 200 Al piccoletto Qui A questo qui Perché Facendolo 200 Lo sblocco O comunque Lo sblocco già a 100 Però se lo metto a 200 È meglio Perché mi dà delle Mh Del Come si chiama Dei Mh Ve lo faccio vedere La possibilità Di ottenerlo Al massimo Delle sue capacità Delle sue potenze Come Goblimon Che sta con Un po' di vita in più Con l'attacco in più Con qualche valore in più Quello è il trucco Il trucco è proprio questo Poi ripeto I Digimon li hanno fatti I propri identici Alla serie animata Identici Comunque Parlano di altri Digimon Goblimon Quindi avete saputo Da dove è uscito Goburimon Noto anche come Goburimon Oh che bello L'abbiamo sbloccato 200 Va bene 200 perché è l'unico Digimon piccolo E mo lo useremo Perché voglio Sbloccarlo Oh ma che bello Bene Andiamo qui Cioè andiamo Ovvio Block out Subito Scappati proprio Svigniamocela Non abbiamo Vediamoci proprio Non ci dobbiamo far scamare Corri Scappaci un'enicis Ok Madonna mi sono impressionato Chi è? Ah si è già arrivata Eh furbacchione Ci grazie ad un fanno Aspettate Sì Sì infatti qua Spica un po' La situazione Lei fa Lei praticamente Ve l'ho detto Lei se non detective Lei va a cercare La situazione Di quello che sta succedendo Con l'Aiden Con i Digimon Con i Digimon Con i Digimon Ok Ok Io ora devo dare una mano E ora gli darò una mano A svolgere delle indagini A scoprire delle cose in più Sulla Aiden Perché Aiden Non racconta bene La situazione Perché sotto sotto È un furbacchione È la madre Su serio Sul serio Che ho dovuto Comunque Non per qualcosa Non so se l'avete notato Ma ho fatto 10 ore di gioco In tutto ciò Buona parte di allenamento È stata Qua hanno Ecco Questo È meno importante Però qua ti spiega Che Ci sono Degli obiettivi Da fare Ovvero Delle missioni E infatti Eccolo E sono importanti Ragazzi Sono importanti Per un semplice motivo Sblocchi Equipaggiamenti Sblocchi Contenuti Infatti Quanto lo dice Vedete Red Sono Quelli urgenti Normali Poi Digifarm Case Ok Abbiamo solo Vedete È bellissimo Ma possiamo Moverlo anche con No Non lo possiamo fare Pensavo di sì Vedete Ad esempio Otterrò 300 yen 500 CSP E più 5 HP Ok Facciamolo Dove si trova In tutto ciò Pia Curemi Difficile Agency Client Proprio Proprio te Proprio te Grazie La scheletta La scheletta La scheletta La scheletta Faccio un gioco di perlustrazione Te stai avunque Bello Bello il gatto Il gatto Oddio Identica Littia Ok Poi faccio vedere Che cosa ho scaturito Moverete Ok Ok La scheletta La scheletta La scheletta Ok, la lista delle facilità che puoi andare a Digifarm e a Digilab.interrogativo, ovvio. Cosa è questo? Ah, ok, grazie. Grazie, 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 oh vabbè, oh buono, basta, sei stato gentilizio, però non mi interessa il sacco. Vedete, devo prima finire la missione, quindi non posso andare lì, vedete dove siamo, ora vi faccio vedere un po' tutto. Oh, qua siamo proprio, qua non posso uscire, no, infatti non posso. Questo esiste, Broadway, Nakano Broadway esiste? Ah, possiamo fare anche una cosa bella qui. Voi dire, che cosa sono questi oggetti? Ora vi faccio vedere subito. Vorrei vedere... ah, non li posso vedere adesso, giusto. Allora, attenzione, posso fare una cosa. Faccio una cosa bellissima, incremento il campo, bello, però mi interessa questo. Vuol dire, anche per chi, secondo voi, per lui. Eh, avete capito come funziona adesso questo? E, ovviamente, anche per lui. Perfetto, l'ho potenziato al 20, proprio like da un post proprio. Vediamo qui, questo è tutto il giro, vi faccio vedere, è una bella perlustrazione. Vedete, posso andare un po' ovunque, insomma. So che qua mi ricordo, eh. Ah, ok, no, eh, chiedevo. Allora, se andiamo sopra. Vediamo un po' di perlustrazione, qui non c'è niente, qui assolutamente, sì, qui si può entrare, ok. Vedete, devo fare un po' di giri perlustrazione, eh, perché voglio vedere se c'era qualcosa. Vabbè, sì. Uff, uè. Sei salvo. Vabbè, è vero. Vabbè, ogni volta che ora viene al cuore. Vabbè, è un coso. Vabbè, l'abbiamo dovuta fare un momento. Vabbè, l'abbiamo a fare un momento che doveva. Vabbè? Vabbè, l'abbiamo giusto. Vabbè, l'abbiamo ragazzi. Vabbè, l'abbiamo i ragazzi di un'altra, ma ho. Vabbè, il è un hacker, gli d'attacco, gli d'attacco, gli d'attacco. Maronna, ma è sempre incasinata lei, sta buona Ma te sei coppa agitata ragazzi Maronna Ah, questo è bello qua Non mi conviene scendere perché giustamente se no scendo giù Cioè vado a due piani di sotto Qua vi faccio vedere il pianerottolo, come sempre Vediamo se c'è sempre qualcosa qui Sì, perché solitamente c'è sta le cose E poi sopra la parte più bella del caffè Qua c'è il coso dell'addestramento, guardate Facciamolo Certo Oh, facciamo il torneo Facciamocelo Faccio leggermente male adesso, guardate Così incontriamo noi Digimon Vediamo un po' più di come ha mangiato Questo serve, è molto importante Ma lo vedremo Oh, ma che bello Ah, oddio Vuol dire che devo essere un cattivo Ah, oddio la resistenza Complimento Complimenti davvero Mi è piaciuto Ma credo di capire il perché Perché erano dei virus Wow Che bello, bello Questo è sì che bello Oh, fanno male Complimenti davvero Si togliano di mezzo prima Complimenti Ha resistito Bella Questo che state vedendo Eh, ragazzi Questo che state vedendo Curamon Che poi l'abbiamo sconfitto Il livello intermedio Cioè quello superiore La precedente Che sembra una mano Diventa Kerremon Uno di chi è Kerremon? Quello che diventa poi Diabolo mo Diabolo Sì, mamma Ma c'era un vento Pazzesco Eh, hai visto? Mamma mia Mi è piaciuto tutti in questo È naturale Stai scherzando Perché mamma ci graverà un vento fortissimo Eh, infatti era brutto tempo Anche sopra a casetto Vabbè, noi chiudiamo tutti Siamo un posto Troppo male Ok Ciao Ciao Sì, c'è un brutto tempo Dai, abbiamo sconfitto Bello Abbiamo fatto una bella cosa Intanto livelliamo Madonna, quanta esperienza Quanta esperienza Ma esperienza Ma esperienza Ma sta bene Ci manca l'ultimo O penultimo Per stare Non mi ricordo Wow Oh, ci fanno malino questi Oh Ma come te permetti Andiamo Sono tutti livelli Megamed Critico tantissimo L'abbiamo massacrato male Attenzione che quello c'ha veleno Non credo che sia la cosa buona da fare Beh, lì sarà in quadratura diversa Bene L'abbiamo sconfitto male Sconfiggiamolo Ah, resistito Minchia, con un momento Però faccio guardo con te Sì, perché così accumula Gli HP I MP I Magic points Bello, avete visto? Oh, affrontiamo più Ma quanto stessi impari Peccato che Se un virus E io giustamente Un vaccino Ti ho fatto un one shot Bello, livello 23 E gli altri sono saliti Quindi abbiamo Ma insi che abbiamo fatto Una bella partita Che è successo? Qui c'era uno Non lo ricordo Non posso saltarci Che noia Perché non ha il fatto Che cosa del caffè Eccolo Uh, la gattina La gattina La ragazza Neko Però non mi ricordavo Che le texture facciali Erano fatte un po' marino Da notare differenze Tra i modelli Come posso dire Quelli là Base IA E non quelli là Protagonistico Le vita Bellissima Lei è adorabile Simpatica Boss Lo chiamiamo Cioè ragazzi Io devo fare Solo questa cosa Alla fine Devo fare solo Questa stronzatella Questa stronzata Io me lo ricordo Ah Non posso neanche Perché giustamente Devo Devo andare a Confermare la missione Sì perché tu devi andare A confermare la missione Sennò dov'è il divertimento Per un caffè Quale era per fare Un tutorial Della missione Sì 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 Fa spiega un po' di cosa Rispone dal telefono Ok Mi mando un messaggio Adesso Vediamo un po' Un po' La situazione Ma vediamo un po' Che cosa succede Ah non l'avevo visto Fatemi leggere Fatemi leggere Jim Che non sei L'ho un brinato A terra Ok E qui Oh I know planet Come Ok Got it Sorry for worrying I I talk to you Don't worry about it I find great I can come Non so chi sei Oh fantastico Oddio Tiene la mia stessa cosa Ok Quindi ora posso Fartelo che dovevo E fare Oh che bello Andiamo Vedete che dobbiamo fare Qua ancora Voglio fare Oh qua Dobbiamo fare Oh sì Apriamo Il nuovo Digimon Eccolo Qui Bellissimo Dobbiamo Dobbiamo Digimon Possiamo Scegliere Tokomon O Bukamon Scegliamo Bukamon Che Finalmente Ce l'abbiamo Uno direbbe Ma scusa Tu ce l'avevi già Bukamon C'è un fatto Raga Bukamon Non lo potevamo Tenere Fino a quando Non avevamo Il Digimon Precedente Ma cosa Significa Significa Che adesso Il caro Bukamon In questione Lui Adesso Possiamo Livellare Ok Ma soprattutto Possiamo Fare una cosa Migliore Ad esempio Io qua Toyah Che già Ne abbiamo Uno E siamo a due Perfetto E uno direbbe Wai fatto sta cosa Perché Perché Avendo messo Lui Abbiamo tolto Delle copie Perché le copie Non mi interessano Le copie Di video Poi abbiamo Queste versioni Qua Abbiamo Questa E questa Vedete Così abbiamo Ovviamente Un'alternativa Di allenamento Vediamo Un po' Qualche altra Siggio Ma credo Che abbiamo Finito Così Ci si è fatto Un bel gameplay A dire il vero Che è di testo Parla qui Sì dai La stoppiamo qui Raga Salviamo Uno E due Io qua Vi saluto Raga Quello il 38 Al prossimo video Passo E chiudo Grazie a tutti